Maria Aperto è un brand del gruppo spagnolo Che Alza e hanno lanciato il rebranding dei loro prodotti con anche delle nuove referenze, un nuovo posizionamento che ruota attorno al concetto di sostenibilità, pensato per parlare di un brand che sia appunto rispettoso del mare e di tutti quelli che lo abitano. Il nostro studio si è occupato del restyling, del logo, dei packaging ma non solo dei prodotti che sono finiti nella grande distribuzione, in questo caso vi presentiamo infatti quello che abbiamo studiato per i buyer, infatti sono dei kit pensati per convincere i buyer a sposare anche loro la nuova filosofia di mare aperto. L'idea per noi è stata quella di cercare di portare i buyer dal loro ufficio al mare aperto appunto, quindi abbiamo studiato dei pack con un effetto di unboxing particolare, da fuori sono come i pack del supermercato ma aprendoli si apre un mondo speciale grazie a dei pop-up come se esplodesse anche l'interno di ogni confezione. I tre pack sono stati, hanno all'interno dei pop-up realizzati da tre illustratori diversi, uno è legato alla storia della pesca e infatti rappresenta dei pescatori col mare in tempesta, una scena in notturna. Un altro invece è dedicato al tonno pinna gialla, in quel soggetto andiamo sotto i mari dove vediamo un nuotatore che nuota insieme a un banco di tonni pinna gialla e nell'ultimo vediamo invece un fondo marino incontaminato per mostrare anche i benefici che hanno non solo i tonni ma tutte le specie del mondo marino. Siamo partiti dalla carta fornita da Cordenos, abbiamo stampato sia la base, la scatola, il coperchio più tutto l'interno del pop-up. È stato un progetto molto impegnativo perché presentava delle problematiche tecniche notevoli. Abbiamo fatto post stampa poi col taglio a plotter preparato tutte le basi e poi manualmente incollato tutte le varie parti del pop-up e inserite nella scatola contenitiva. Quindi abbiamo sviluppato più prove e più prototipi per arrivare poi al risultato definitivo della quale siamo molto soddisfatti. Per la realizzazione di questo bellissimo progetto abbiamo utilizzato una tecnologia conica minolta, nel caso specifico una macchina da stampa Curio Press. La scelta è ricaduta sul fatto che si sposa benissimo con il messaggio di sostenibilità che Mare Aperto vuole dare, nel senso che sono stati utilizzati dei toner certificati alimentari, quindi questo è il primo concetto che volevamo trasmettere utilizzando questo tipo di tecnologia. Secondariamente è una macchina da stampa digitale a quattro colori che ha un'alta capacità di riproduzione dei colori e quindi siamo riusciti a soddisfare le esigenze delle tre varianti cromatiche della scatola, del packaging e anche del pop-up. Con questo tipo di tecnologia quindi siamo in grado di realizzare dei prototipi o delle tirature di piccola media entità e anche garantendo quello che è la qualità cromatica. Abbiamo a disposizione un gamut cromatico molto ampio e soprattutto abbiamo la capacità della ripetibilità del colore nel tempo e quindi abbiamo ritenuto che fosse la tecnologia adatta a soddisfare l'esigenza di questo progetto. Questo progetto di tonno Mare Aperto punta sull'unboxing e la carta perfetta per questa esperienza è sicuramente Astro Premium, una carta pensata per il packaging, della superficie particolarmente liscia e molto versatile, però avendo una grande varietà di grammature si presta a progetti di diverso tipo, non solo di packaging. Qui nello specifico in questo packaging la vediamo mettersi in gioco sia per quanto riguarda la struttura del pack, per cui è stata usata la grammatura da 480 che dà consistenza e quindi racchiude le scatole di tonno in maniera perfetta. Invece la più morbida, 200 grammi, è stata utilizzata per creare i pop-up creativi che danno questo effetto wow. Per Mare Aperto abbiamo realizzato un allestimento, siamo partiti dalla cartotecnica pop-up per poi realizzare l'allestimento. In accordo con l'agenzia abbiamo cercato il più possibile di riprodurre la stessa ambientazione della cartotecnica. Dal punto di vista tecnologico abbiamo utilizzato la stampa HP Shitex per la stampa grande formato che ci ha consentito di realizzare una stampa diretta su diversi supporti e rendere l'allestimento piuttosto agile nella realizzazione. Il progetto Mare Aperto è un progetto che viene coinvolto un cliente HP che si chiama Descartes, il quale ha utilizzato due differenti tecnologie di HP, entrambe dedicate al grande formato che sono la tecnologia Latex e la tecnologia Sitex, per creare un'esperienza possiamo dire per il consumatore. Qui troviamo un po' il tema dell'in-store, quindi l'idea di creare un'esperienza in-store appunto per il consumatore e la persona che vada a acquistare questo prodotto, il che è stato possibile grazie all'interpretazione che il cliente stesso ha avuto del progetto, in quanto è stato in grado di utilizzare queste illustrazioni che sono un po' il tema base, quindi l'idea di essere parte di una storia e di guidare il consumatore attraverso questa storia, nella realizzazione di questi pannelli che a impatto visivo ed emozionale possono fare la differenza.